Un momento di festa per celebrare gli ottavi di Champions League tra Atalanta e Valencia, una bella coincidenza, celebrata con lo spirito di due società impegnate nella crescita dei giovani talenti. Nuova Andria e Football Academy Andria scendono in campo, la prima guidata da Vincenzo Carbutti, dallo scorso anno è affiliata al Valencia tramite l'adesione al progetto Formazione Valencia Italia, la seconda guidata dalla famiglia di Bari e affiliata alla Dea della Serie A, l'Atalanta, ottavi di Champions a San Siro, festa Champions presso il centro Andria Sport, ex Arca, un bel momento dove i piccoli talenti delle due società, i nati dal 2008 al 2011, sono scesi in campo per disputare la propria gara di andata. La vittoria più bella è stata solo una, il divertimento di tutti i bambini. Ovviamente è una scusa il discorso dell'Atalanta e del Valencia che si incontrano in Champions, l'occasione invece è quella di mettere a confronto i ragazzi affinché comincino a masticare un po' di calcio importante ma per loro l'importante è una giornata di festa. La prima cosa che mettiamo al centro è proprio il divertimento dei ragazzi, cercare di mettere su questi ragazzi e farli diventare uomini prima di tutto, noi siamo prima di tutto educatori. Il secondo appuntamento si disputerà in occasione del match di ritorno il 10 marzo presso il centro sportivo Giulio Cesare di Via Canosa. Le due società andriesi hanno scelto modelli di ispirazione diversi ma finalizzati entrambi alla crescita dei giovani. Il primo passaggio fondamentale per Nuova Andria, Football Academy Andria e senza dubbio la formazione dei propri tecnici. Sono loro che devono trasmettere nei piccoli atleti le nozioni giuste per diventare campioni del domani. Ci siamo ispirati come metodologia di lavoro, diciamo una società molto importante per quando riguarda il settore giovanile. Noi non nascondiamo che noi mandiamo i tecnici a Zingonia dove vanno a vedere il lavoro del settore giovanile dell'Atalanta. Abbiamo già avuto i primi riscontri, tanto è vero che la scorsa settimana alcuni ragazzi dei nostri sono stati ospiti presso il Catanzaro Calcio, società professionistica di Serie C, dove appunto sono stati visionati da tecnici qualificati professionisti. Continuiamo, andiamo avanti. Sul campo di San Siro è finita 4 a 1 per l'Atalanta, un match storico per la società nell'azzurra di Bergamo. Anche i due presidenti andriesi non potevano che uspicare lo stesso risultato, al di là di ogni preconcetto. In Europa bisogna tifare Italia, ad Andria nonostante l'appartenenza a due società distinte bisogna tifare per i talenti andriesi e queste occasioni non possono che essere costruttive. Quando si dice che magari tra società dello stesso territorio, della stessa città, qualcuno pensa che queste cose non siano possibili, invece per noi anche questo è possibile. Ci divertiamo con loro e soprattutto per i nostri ragazzi. Ma sai, io faccio sempre il tifo per le squadre italiane, che fosse l'Atalanta o che fosse l'Inter o che fosse la Juve, ci tengo moltissimo alle squadre italiane. Speriamo che passi il turno.